Oggi grande giornata, in concomitanza con la presentazione qui a Piacenza del futuro Fly Museum, finalmente dopo nove mesi il G91 è ritornato a ruggire. Oggi abbiamo fatto il primo di altri dieci voli di collaudo che ENAC ci ha richiesto per raggiungere poi la certificazione definitiva. È stata una giornata memorabile, anche perché qui a Piacenza sono arrivati 4 MX da Estrana per il loro ultimo volo. Intanto il G91 continua nella sua splendida cavalcata, non ci ferma nessuno, siamo più forti di tutti. Probabilmente in questi nove mesi di stop abbiamo raggiunto il risultato di produrre più carta del peso del velivolo, per cui siamo in un'ottima condizione. Spero che nel mese di aprile termineremo questi dieci voli e poi finalmente il G91 potrà essere, come si merita, dotato di un permesso di volo definitivo che lo potrà portare a volare in condizioni di massima sicurezza, di massima serietà e professionalità in giro per l'Italia e all'estero. So che voi vi accettavate Marianna in questo video, che io potrei chiamare un caffè post-volo, vi dovete accontentare di me e adesso appena mi manderanno le foto di questa splendida giornata le posterò con l'aiuto di Marianna nei vari video. Grazie infinite e un salutone alle Gine e ai Gini a questo punto, perché ho scoperto che quest'aeroplano ha un sacco di ammiratori sparsi un po' dappertutto. Un grande passione a tutti.